Diario al garese di tutti i miei spanzamenti di Franceschi Masia Pecchino te arrez, lupoc è assai Pecchino è massa, l'assai è spoc Buongiorno, ben trovati a voi il 28 giugno del 2024 Sarò che noi ascoltarò di CatalanTV e Facebook A voi mostro bene, in un qualtè nuovo La torriera, Andriera dell'ospedale civile Dì che è una zona di gran Antares Antares perché lì è la necropoli Una gran necropoli La necropoli di Taurera e Covoto Non è un anno fa, ho detto in casa Cinque paesi di famiglia Una lettera di asfoglio che riceviamo Ma l'antarassati vuol maltrimentare l'anonimato Io ero un imprenditore di già Di 20 anni si è portata in vanta Ma un po' di sacrifici Una patita impresa Nel tempo di crescita E assumiti cinque persone Alla quale si è pagata regolarmente Contribuzi e stipendi Tanti che in ultimi anni Non prendeva res per me Nel tempo di crescita Che non si poteva immaginare Crisi generale in tanti setolls Tassi ma s'agravole Iva ad anticipare Tambi si non si è accasso Fatturati tutto, sono restati in ritrati con il fischio, cercando di pagare poc alla volta, rateizzando, aveva di creare, pagare i diutati o pagare i operaroli. Ho creato la seconda ipotesi. Questi giorni la bastonara al cap, mi hanno bloccato il conto in banca senza avviso per due pagamenti non effettuati. Lo conto a zero e non li è la possibilità di regularizzare la posizione. Resultato, oltre alle sanzioni, antaressi sopra antaressi. Basta, non li fai mai, io tanto. Di me non ho tenuto più a res. La mia sofferenza è insupportabile, ma se non quella delle grandi evasioni. Il buonismo ha fatto molte frequenze nelle nostre scuole. Un minuto di 15 anni è suicidato con una scelta nella scuola di casa. Il motivo? I compagnoni di classe avevano creato una pagina a Facebook. Lo giova delle calzoni decorò rosa. Abbavano offensi le foto. Ho passato alcuni anni e la Mara scrive lo prendivano in giro per un presunto diverso orientamento sessuale. Pianzi, la pagina stava nel web. La polizia e gli osservatori contro gli atti discriminatori non avevano dannato la Tancara e la magistratura ha risposto l'archiviazione negando la pista del bullismo e di omofobia. consapevole che un giugno escludesse che l'homofobia si potesse legare alla trattoria estrema di un figlio di una mara. Lo spreccio. Distruire la barriera dell'indifferenza. Lo santo del dia. Sant Ireneo Bisba nasce al 1201 e muore al 202 a Lione. Si affassa saldotti e ve legiti Bisba pabatiati tanzi idolatras ve maltirizzati durante la persecuzione. Catalan dell'allie criteri di lingua scritta di Luca Scala Adgettivi indefiniti Tot, totta, singular Tot, totta, plural Sate di evitare la forma maschile Lo maschile plural Totus, esclusivamente coloquial Con diente, totus dos Altru Altro Altra Altra Altros 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 I altras Altri Amal significati di altras palsonas Es pochi amprat Celt Celt Certi Certas Certes Celt Celtas Es di evitare la forma maschile plural Coloquial Celtus Exclusivamente coloquial Pochi Poca 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 Manco Mancu Calqui Calqui Com Calquiu O calquiuna Lo maschile significati Algù Com Algum Alguna Alguns Algunas Nellas propositions negativas O També Res Lo pronom Es ningún Cada Cara Con Caraú Carauna Massa Quantificaron prati Que siguen propositions negativas Que afirmativas Significata Nitalia Troppo E També De Tanto Assai Tanta malmatez significati Nella lingua Ascrita Sa potam prato Com adjetivo Quantitativo També Molta Molts Moltas Abastanza Qualsas Sia Qualsessia O Qualsavol Quissas Sia Quissas Pelas Falzonas E Comsas Pelas Cosas Fruizzi Dera Marina Protegizzi Dera Protegizzi Dera Olia Porrida In tutta la costiera Fondalse De Rocca Avem sempre tanguto In abundancia Fruizzi De Marina Nel Zoltinsanz A causa Duna pesca indiscriminare Son manassati De Dazas Compari Nel Zanzi Passats La pesca Era limitata Tras mesos De Janer I Frabé S'henea Feta una pesca Salvaggia Per amparar La polpa Del fruit Per condir Los espaguetes E avui Esa n'estinció La palgeria Covara La pranera Oral Mangiats I cruns Rosurats Amali Giunivell La gniacara Avui Es proibira La pesca La valva Salviva As marinesi Com a prate E se manjava cru Solamente Lo troncho Dira Madre Perla Se tornavan Los mobras Ultigara Se manjava Ampullinaras E frigiras A nori Bullint Andatel Mari Per tantatensi Se tagliavan As rocas Penatreure Lo fruit I ara Es proibit Bucuns Caragol Caragol Mari Se menjan Despris De avellos Asbolissats Paraures De la nostra llengua Trobera És un núvol gran Que porta fort Temporal E sempre Somuntant Las troberas Del d'altros Casa Per habitar E vina Per mangiar Chi Egoista Chi Non te casa Non te vai Chi es prova Te pocas Relaciones Oma Romiró Pochi Dirigent Lo diunas Mulheres Marits Mandrons Carre con Larito Se diua A palzona Carregara De vestigio O altro Con Larito Que sanguerieja La fruita E pren Amaras Aspina Quantas Nopote Apuntamenti Culturales Jazz Alguer Dissatta 29 Jun A las horas 22 30 Alcualté Ama Morgan James E lo Guitarrista Doug Wembley És un artista americana A 360 graus Atora Cantautora Musica jazz Soul E ritmi blues Poesia Marinconia De Michele Rondello Quando s'allunga Nas ombra Se un silenzio Carrico De amarguras Da baixa Amprasonar De tuoi pensamenti Tu Atura-te Un instante E ascolta Lo respiro Tranquil De ramar O l'alite Salmastra Del vento E despres Tanca Los ulls Y pensa A la cara Sorriente De l'aurora Quan s'allonga Un nuovo hospital Un hospital Un hospital Un hospital Un hospital A propria Asparin La vedova Alegra Cisto donata A una bella donna Viura Que era veramente Saia Alegra A voltas Sol nominaras Axi Las viuras Que senza Fear res de mal Viun Annalagria Reagra Reagrazie Reagrazie Alegra 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 En